Eddi, quindi questo è il tuo camion? Sì, come se fosse casa mia Casa tua perché passi più ore qui piuttosto che a casa Giusto, giusto E cos'è che possiamo trovare all'interno di un abitacolo, di un camion del Giro d'Italia? Tutto quello che ho bisogno per vivere con sicurezza e comodità Ah, tipo? Abbiamo il letto, il frigorifero, l'aria condizionata, perfino una pistola d'aria Ah, quella serve per tenere lontani i malviventi No Stefano, per pulire Ah, scusa E questo? Questa è la mia Bibbia Ah, quindi tu conosci vita, morte e miracoli del Giro d'Italia Tutto, mi piace sapere dove sono e dove vado Ma che bravo che sei Grazie a tutti